Siamo al secondo evento del ciclo di puntate Value Added in Lombardini 22, stasera affronteremo il tema dell'engineering che crea valore con Silvia Rovere di Asso Immobiliare e Marzia Morena del Politecnico di Milano. Questi edifici che vengono progettati con tecniche innovative che vengono supportati da investimenti importanti e che devono essere gestiti anche nella maniera corretta. La sfida per i professionisti secondo me è duplice, quella di essere estremamente preparati in un ambito dove l'innovazione tecnologica ti alza sempre l'asticella e offrire una consulenza tailor made per ottimizzare la performance complessiva e il risultato quindi complessivo dell'operazione. Perché se no diversamente fare una bella macchina anche con un'attenzione che rispecchia poi le attese ma la si dà a mano ad un gestore che probabilmente con una serie di tecnologie, con una serie di prodotti potrebbe implementare e semplificare la progettazione in sé, ecco è un'occasione un po' persa.